Le conferme stanno arrivando, ci sono tantissimi filmmaker che verranno ad assistere alle proiezioni a parlare e a conoscere gli altri filmmaker, la nostra giuria, insomma c'è un bel fermento Sì, e soprattutto molto pubblico, molto Quanti sono i film in concorso? Dunque, in totale sono 40, giusto con i selezionati e stasera ne proietteremo, sono una decina tra tutte e due le location 15, sì E poi domani? Domani ci sarà la parte finale che sono previste la proiezione dei rimanenti, quindi una 25 di porti Poi domenica lasceremo spazio ai fuori concorso e alle semiazioni Grazie Grazie